Bella raga, qua è Savix che vi parla, bentornati in questo nuovo video e benvenuti se siete nuovi nel canale Oggi vi spiego un metodo per fare RP veloci, massivi, tra virgolette raga, per chi ha iniziato a giocare da poco Perché chi è già a livello 200 o più raga, 150, questo glitch non serve a una ciolla Quindi ragazzi iniziamo subito, bisogna possedere lo yacht e diventare membri della sicuro server A questo punto andare su gli incarichi del boss ragazzi e avviare la numero 17 Una volta fatto ciò potremo fare RP praticamente massivi Prendete l'elicottero che sta qua raga oppure anche con l'oppressor e vi faccio vedere poi cosa cambia Allora cambia che raga, ora dovremo fare questo Andiamo dentro Zancudo, quindi il mio consiglio raga è mettere lo yacht davanti a Zancudo In questa maniera facciamo Zancudo, yacht, Zancudo, yacht e ogni volta prenderemo un po' di RP Vi ho aperto questo account che era a livello basso apposta per farvi capire ragazzi Quindi come ben vedete ogni volta che entro dentro arrivano le stelle Quando me lontano se ne vanno ragazzi e mi da un po' di RP Il fatto è questo, che se siete di livello basso raga salite abbastanza Se siete di livello alto io direi anche sopra al 120 che è inutile farlo raga Salite molto lentamente Questo glitch serve più che altro solo per arrivare raga velocemente al 50, al 120 Non per altro, per sbloccare le prime cose che servono fondamentali ragazzi Quindi a questo punto vi faccio vedere la differenza se lo facciamo con l'oppressor ragazzi E guardate raga è veramente una figata Noi praticamente dobbiamo entrare dal davanti, dalla parte bassa, uscire dalla parte dietro E facciamo questo cerchio interrottamente raga E fate RP Io in 5 minuti ho fatto praticamente due livelli Ma io ero a livello 7 raga Quindi vedete voi se vi conviene farlo o non farlo Devo essere sincero, questo è il metodo migliore attuale per salire di livello E niente ragazzi, io spero che questo video vi sia stato d'aiuto Che vi è piaciuto Ringraziamo questi spagnoli, questi inglesi, questi francesi Che trovano i glitch prima di noi ragazzi E niente, alla prossima Sba da ba Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti